come sapete di recente ho fatto un rewatch di twilight di cui vi ho resi partecipi su instagram quindi se non mi seguite su instagram seguitemi su instagram e niente questo in quanto fangior la canita mi ha portato a ritrovare il mio amore per robert pattinson che non è mai andato via però si è riacceso si è riaccesa la fiamma come un tempo come nel lontano 2008 quando avevo i suoi poster in camera e quindi cosa ho fatto mi sono messa a rivedere tutti i film di robert pattinson sono soprattutto recuperato quelli che non avevo mai visto e quindi ho stilato una mia personale classifica dei migliori film ma oggi scopriremo qual è il suo migliore film in assoluto cioè qual è il più bello di tutti tra quelli che mi piacciono di più il perché di questa cosa nessuno mi andava di farlo seguirò un criterio scientifico per analizzare questi film ogni film riceverà un tot di punti in base ad una categoria che ho scelto e ne ho scelte quattro la prima riguarda il ruolo quindi che ruolo ha robert se è il protagonista prenderà un tot di punti se invece è un personaggio secondario una comparsa prenderà meno punti lo screen time quindi quanto tempo effettivamente vediamo il nostro rob terzo ovviamente la sua bravura nella recitazione quindi quanto è stato bravo ad interpretare quel personaggio e quarto i capelli i capelli di robert pattinson sono leggenda meritavano una categoria che per me ovviamente è quella più importante iniziamo con maps to the stars di david kronenberg qui eduardo aveva già iniziato a collaborare con i registi fichi maps to the stars racconta beh insomma è un po' complesso d'altronde è un film di kronenberg comunque racconta la vita di questi personaggi chiamiamoli personaggi di hollywood insomma ci sono queste star di hollywood e noi ne vediamo la vita o comunque una parte di vita che poi viene spoiler che insomma è una vita particolare fatta ovviamente di situazioni surreali non solo perché si tratta di un film di kronenberg ma perché appunto kronenberg fa una critica anche abbastanza aspera allo star system in generale ad hollywood e quindi insomma ci presenta questi personaggi nevrotici pieni di sé che cercano in tutti i modi di farcela in questo in questo mondo crudele e il nostro rob interpreta un autista aspirante attore però che si innamora di alice nel paese delle meraviglie non mi ricordo mia mia cosi cosca mia cosi cosca quindi ruolo qui rob è un personaggio secondario però secondo me importante anche perché il suo ruolo farà svoltare la trama in una maniera abbastanza quindi gli diamo un bel 5 perché non è protagonista quindi l'avrei dato 10 se fosse stato protagonista perché insomma personaggio secondario ma importante quindi 5 ci sta screen time abbasta c'è abbastanza screen time di rob ha diverse scene una molto intensa diciamo così quindi anche qui io gli darei un bel 5 bravura è stato bravo rob è sempre bravissimo però molto bravo io gli darei un 7 perché comunque ha lavorato bene non è stato eccezionale però ottimo lavoro capelli qua purtroppo mi vedo costretta a dargli un 5 su 10 perché non ci siamo proprio cioè gli avrei dato la sufficienza se fossero stati leggermente più lunghi ma mi trovo costretta a dargli un 5 quindi visti i suoi voti in classifica il nostro rob in maps to the stars si aggiudica 22 punti passiamo a harry potter il calice di fuoco tra l'altro film con cui abbiamo conosciuto il nostro robert cioè io in realtà no perché l'ho conosciuto per un altro film ma ci arriveremo dopo ma comunque diciamo che l'ha fatto conoscere al grande pubblico anche se in seguito a film poverino non ha ottenuto nessun altro ruolo infatti povero rob ma comunque vabbè harry potter e il calice di fuoco sapete benissimo di cosa parla e il quarto capitolo della saga di harry potter è il nostro amato rob interpreta cedric digori quindi ce l'abbiamo ancora nel cuore perché non dimenticheremo mai cedric piccolo angelo quindi ruolo secondo me secondario ma comunque importante un po come maps to the stars forse qui gli avrei gli avrei dovuto dare un 6 diamogli un 6 perché comunque cedric è sì un personaggio secondario ma comunque molto molto importante screen time direi che ne è abbastanza non è tantissimo perché ovviamente non è il personaggio protagonista però devo dire che è abbastanza presente quindi io qua gli darei un 5 bravura nella media perché comunque molto bravo ma niente di che un 6 se lo merita voto capelli 8 8 cedric digori aveva dei bei capelli fluenti acconciati bene ottimo lavoro quindi facendo un calcolo veloce il nostro rob in harry potter il calice di fuoco si aggiudica 25 punti spero sia giusto passiamo al film che tutti stavamo aspettando ovvero twilight non potevo non metterlo scusate però è uno dei miei film preferiti con rob lo so lo so non dovrei vantarmene ma eccomi qui che me ne vanto twilight che racconta l'amore tra bella e eduardo un amore travagliato dato che lui è un vampiro è come dire è attratto da lei principalmente perché la vuole ammazzare ma vabbè partiamo dal ruolo qui rob è il protagonista quindi mi vedo costretta ad assegnargli un 10 il suo screen time è infinito cioè praticamente in ogni scena quindi anche qua 10 bravura qui lo metto nella media il caro rob si è impegnato molto si è impegnato molto a fare eduardo però palesamente anche lui non è che ci credesse molto quello che stava facendo quindi io gli do la sufficienza apprezziamo lo sforzo c'è anche da dire che poverino aveva poco con cui lavorare per quanto riguarda invece la categoria capelli qui mi vedo costretta a dargli un 10 Robert Pattinson non ha mai avuto capelli migliori e se non in twilight nel primo film in particolare nel primo e nel secondo nel secondo lo vediamo due volte ma nel primo nel primo ha dei capelli che non lo so sfidano le leggi della gravità quindi il nostro rob in twilight si aggiudica un punteggio di 36 punti passiamo a the lighthouse di robert eggers non lo so dire i nomi in inglese per favore addirittura nel video di river del cielo gente che mi percula per come pronuncio i nomi dei personaggi allora the lighthouse secondo me è uno dei migliori film con robert cioè decisamente uno dei suoi film più belli tra l'altro eggers secondo me è un grande regista si occupa principalmente di un genere che io non insomma non apprezzo particolarmente non perché appunto faccio schifo ma anzi ma perché come sapete io sono una fifona di prima categoria quindi non riesco a guardare gli horror ma devo dire che the lighthouse mi è piaciuto moltissimo nonostante insomma la paura anche perché non è un film particolarmente spaventoso comunque non è il classico horror diciamo così è molto evocativo molto simbolico crea tensione attraverso elementi non tipici dell'horror secondo me ma proprio attraverso le metafore e attraverso scene anche molto forti che però non sono appunto la scena splatter per dire costruisce proprio intorno ai personaggi quello che sta succedendo questa atmosfera un po' mistica che ti fa temere insomma che possa succedere qualcosa di terrificante da un momento all'altro e poi insomma ci sono anche queste immagini molto grottesche bello bello nel cast c'è anche william defoe che appunto insieme a robert domina la scena come ruolo io anche qui mi ritrovo costretta a dargli un 10 perché è il protagonista indiscusso praticamente in ogni singola scena del film quindi insomma un 10 mi sembra mi sembra logico screen time anche qui 10 perché appunto è in ogni scena del film come bravura io gli darei un 9 perché è stato eccellente bravissimo secondo me a robert in questo film regge benissimo insieme a william defoe però gli do 9 non 10 per amore del film di cui vi parlerò dopo in cui secondo me merita un 10 a mani basse per quanto riguarda invece il voto capelli qua io gli darei un 6 a rob perché sembra un po' uno scappato da casa però lui sta molto bene con quel look trasandato cappello disordinato sta benissimo non proprio al top cioè non edward cullen però comunque una sufficienza se la merita e quindi con the lighthouse rob si aggiudica ben 35 punti e passiamo all'ultimo film che ho messo in questa mia classifica di film preferiti con robert che secondo me è il suo film più bello ovvero good time good time racconta di questi due fratelli che sono un po' come dire al limite del legale anzi molto oltre il limite del legale uno dei due soffre di disturbi psicologici non ricordo precisamente quale sia insomma la patologia e quindi è un po' succube dell'altro fratello ovvero robert che lo trascina in cose molto poco legali il tutto parte con una rapina in una banca il fratello di robert viene arrestato e lui fa di tutto cioè smuove mari e monti pur di riuscire a far evadere suo fratello e fa delle cose fuori di testa è un film che robert pattinson stesso ha definito come genere panico questo è il suo genere nel senso che non mi ricordo quanto dura forse due ore fate e sono due ore di pura ansia perché è tutta una corsa contro il tempo un'ansia del non farsi beccare del trovare i soldi per riuscire a far uscire il fratello e far girare un sacco di ingranaggi e qui rob secondo me da una delle sue interpretazioni migliori anche perché i due registi i fratelli safdi non so neanche loro come si pronunciano vabbè hanno scritto il personaggio proprio basandosi su robert cioè avevano già deciso di castare lui e quindi poi hanno scritto la sceneggiatura di conseguenza e infatti secondo me si vede perché è un ruolo che gli calza pennello lui è bravissimo nell'interpretarlo quindi voto per il ruolo 10 perché appunto protagonista indiscusso di questo film se lo regge da solo tranquillamente screen time 10 anche qua perché c'è in ogni singola scena praticamente bravura 10 come vi anticipavo perché appunto secondo me questo è davvero il suo miglior film la sua migliore interpretazione non l'ho mai visto così così intenso robert pattinson se non forse in the lighthouse dove anche lì da un'interpretazione pazzesca però secondo me in good time c'è quel quel pelino di più che wow voto capelli io ragazzi non commento perché non mi sembra il caso non mi sembra giusto nei suoi confronti dare un commento sul suo look capelli non sarebbe rispettoso nei confronti di robert nei miei confronti nei confronti di voi tutti che guardate no facendo un breve calcolo con good time robert si aggiudica 30 punti e dunque qui ci troviamo alla grande domanda tra questi film quindi tra i film che io considero i migliori di robert pattinson qual è effettivamente il più bello secondo il mio calcolo scientifico insomma se avete seguito il punteggio già lo sapete giuro che non volevo far vincere twilight perché sinceramente ci sono dei film molto più belli di twilight in questa classifica però mi hanno fregato mi ha fregato la categoria capelli perché nessuno può raggiungere i capelli di edward cullen comunque a parte gli scherzi secondo me i più belli in assoluto tra questi che vi ho nominato sono the lighthouse e good time infatti se non li avete mai visti io vi consiglio vivamente di recuperarli the lighthouse se non sbaglio lo trovate su amazon prime a pagamento però good time si trova su netflix quindi se avete netflix ve lo recuperate poi so che ci sono tanti altri film bellissimi che ha fatto robert tra cui cosmopolis è sempre di cronenberg ha fatto anche bella me life poi cos'era queen of the desert insomma ce ne sono tantissimi però insomma ho fatto una lista di quelli che sono i miei preferiti con lui e quindi volevo un po' scoprire quale era quello top e a quanto pare resta comunque twilight capolavoro incompreso del nostro tempo tra l'altro deve pure uscire se non sbaglio il nuovo libro di twilight che è midnight sun quello con la prospettiva di edward sono molto curiosa di leggerlo anche se in realtà ai tempi era stato licato e quindi avevo già letto qualcosa ma ma vabbè questo è un discorso per un video futuro fatemi sapere qui sotto quali sono i vostri film preferiti con robert pattinson e soprattutto se l'avete rivalutato dopo twilight perché lui per tanto tempo si è portato dietro un po' questa cosa quando in realtà io credo sia un attore veramente incredibile e che merita secondo me il successo che sta avendo soprattutto nell'ultimo periodo infatti quest'anno covid permettendo perché non si sa mai dovrebbe uscire Tenet di Nolan dove c'è anche lui nel cast e poi ovviamente sarà il nostro nuovo Batman io non vedo l'ora francamente di vederlo in The Batman cioè non vedo l'ora secondo me tra l'altro lui è perfetto soprattutto se l'avete visto in Cosmopolis capite capite che lui è proprio un Bruce Wayne fatto e finito e poi dai sono molto curiosa di vederlo anche in Tenet sinceramente ma sono curiosa di vederlo sempre il nostro caro Rob e niente quindi io spero che questo video vi sia piaciuto possa essere stato divertente in qualche modo ma più che altro spero di avervi dato qualche spunto di nuovi film da vedere con il nostro Robert ma in generale bei film da vedere vi lascio comunque tutta la lista dei film più belli di Robert non solo quelli nominati ma anche altri insomma che secondo me potreste recuperare che non sono male nell'info box poi oltre ai film trovate anche tutti i link per seguirmi sui social io vi consiglio sempre di seguirmi su Instagram perché lì insomma vi tengo aggiornati con le cose che faccio o comunque spesso mi capita di commentare cose che poi magari mi chiedete nei commenti ne ho già parlato su Instagram quindi insomma seguitemi là perché è il social insomma dove comunichiamo in real time e non l'ha detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti